Duro colpo alla mafia di Palermo. La polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza d'applicazione della misura cautelare a carico di 26 persone, indagate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti e fini di spaccio e contrabbando di tabacchi. Le indagini hanno fatto luce su una delle organizzazioni territoriali chiave nell'economia di Cosa Nostra della città. Il mandamento mafioso di Brancaccio, in particolare la famiglia di Corso dei Mille, già colpita nel 2017 dall'operazione Mare Dolce. Dalle indagini e dalle intercettazioni è emersa la capacità del gruppo di mantenere stabili rapporti con autorevoli esponenti di Cosa Nostra palermitana e non solo. Sodalizzi in grado di condizionare profondamente il tessuto economico del territorio. Il meccanismo dell'essorzione è cambiato, ha spiegato il capo della squadra mobile di Palermo, Adolfo Ruperti. Non si sono registrati episodi particolarmente cruenti, ma una fitta rete di traffici. Registriamo in assoluto un attivismo delle organizzazioni mafiose su tutto quello che può essere business nel loro territorio. Dal traffico di droga, che adesso svolgono anche in maniera diretta, a traffici antichi come quelli dei tabacchi lavorati esteri, delle sigarette di contrabbando e abbiamo registrato numerosi sequestri in tal senso, anche al business delle macchinette, dei videogiochi, dei videopoker che vengono in qualche modo attraverso ditte compiacenti inserite sul mercato e addirittura adesso a queste locazioni di case di riposo per anziani dove anche con metodo mafioso venivano riempite di pensionati, di anziani che avevano bisogno di trovare delle case dove vivere. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo alcune imprese e diversi veicoli per un valore complessivo di circa un milione di euro.